ben a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi vedremo dei anni moment su fortnite se avete visto ho cambiato il nome del mio canale l'ironics solo perché il mio tipo di fortnite di fortnite ecco e l'ho voluto chiamare l'ironics se qualcuno vuole entrarci se ha forte detto ovviamente dico dei gometti voglio fare il provino comunque iniziamo ragazzi a vedere i fondi moment e vi ricordo di iscrivervi e lasciare mi piace e attivare la campanellina così sarete sempre aggiornati ragazzi ora inizio questo è una luce ragazzi questa della self questa percorrere facerà la zona non è da nessuno un amico glomis ma è scemo ma è scemo ma è scemo non è scemo un attimo un po' di chi l'aveva prima ok questi erano mezzi bot però 4 vediamo questo li prende 300 metri vabbè questo è facile ok c'è un altro ok non c'erano i metri non c'erano i metri ma questa è se sono vecchia 2 o 3 penso la fine della 2 o l'inizio della 3 90 sì ma erano mezzi bot la terra non c'erano due terra la terra non c'erano due terra no non c'erano due terra ok una terra vabbè bo sta clip io non le capisco che c'è qui non capisce come ci no quasi è acceso dal sole nabbo contro pro che non riesce a batterlo sei scemo 0 kill l'altro ha vinto no io dico come si fa il cavallero rosso o pezzare si pezzo che sia un nabbo ma che cacchio fai vabbè è un nabbo il cavallero rosso ma no no anche a me mi ha capito ok che c'è se lo uccidi di troffole che c'è se lo uccidi di troffole vabbè questo non lo capisco io ma questa è bella che c'è se lo uccidi di troffole non l'ho vista non l'ho vista vabbè vediamo questo no fake non l'ho vista che c'è se lo uccide di troffole non l'ho vista non l'ho vista ma è stato scemi sti qua aspetta quanti chi l'ha vinto 4 kg ma pure e poi anche questa modalità che faccio le scuole anche... vabbè vabbè andiamo...bomb muore, lo scudo...bomb si riuscite a muore non mi piace no...bomb muore...ok cosa c'è? ma che c***o? io sto clip non lo capisco ooooooh ok questo è un nabbo che ho messo ok si ma lo capisco che sei bravo a battere un z-bot ma che se già sono dei z-bot non lo faremo anche vedere boom vediamo questo no 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 no